Volevo farti una domanda a questo punto, anche perché... No, certo, certo. Io aspetta che tolgo per adesso la cosa. Ma potevi lasciarla perché ci serve. Ah, ok. La domanda che sorge spontanea comunque è questa. Ma perché a Satoshi o a questo gruppo di programmatori è venuto in mente di creare questo sistema in cui la remunerazione si dimezza via via nel tempo con questo sistema proprio di logica quasi periodica, mettiamola così. Perché si innesca questa idea? Allora, guarda, intanto vorrei, magari scrivete sulla chat, vorrei che fosse chiaro tutto quello che è stato detto. Stai seguendo la chat io, non preoccuparti. Ah, perfetto. Allora, lo spiego proprio adesso nelle slide successive. Perché hanno, e c'è anche la logica del mining, di chiamare mining a chi in realtà scrive sul Distributor Ledger, no? Perché hanno deciso di fare un sistema che fosse deflazionario invece che inflazionario come sono le valute di tutto il mondo, no? De fia, ok. Allora, adesso, quindi, mi hai dato l'absist per spiegare la slide dopo, no? che praticamente il concetto è questo. C'è una relazione tra il valore di un bene e la supply. Dopo lo vedremo meglio. Quindi la supply, scusate, è quanto ce n'è a disposizione, no? Allora, il Bitcoin all'interno di questa curva, ovviamente come si muove? Si muove che la supply, ovvero i dollari in circolazione, scusate, i dollari in circolazione aumentano sempre di più perché la Fed li stampa e via dicendo, no? E allora questo sistema che si dice inflazionistico fa sì che aumentando la supply il valore tende sempre a diminuire. Cioè, cosa significa valore? Un dollaro vale sempre un dollaro, no? Però, dieci anni fa con un dollaro mi compravo tre palline di gelato, per fare un esempio, adesso me ne compro una sola, no? E quindi, man mano che passa il tempo, il valore del dollaro diminuisce. Ok? All'aumento della quantità circolante, inevitabilmente diminuisce il valore del pezzo unitario. All'aumento dei dollari emessi significa che il dollaro vale meno. Ok? Invece il bitcoin è un sistema diverso, cioè deflazionario. Cioè, vengono emessi sempre meno bitcoin, fino a un limite dei 21 milioni, che probabilmente tutti sanno, e quindi questo genera che il bitcoin abbia sempre più valore. Questo lo vedremo nelle slide successive, se è tutto chiaro. Perché? Praticamente, questo per farevi un esempio, sono il numero di bitcoin in circolazione dal 2009 al 2048, per capirci. Adesso noi siamo qui, ahimè, mi sono dimenticato di metterlo. Praticamente, nel primo blocco sono stati minati 10 milioni e mezzo, e adesso un po' alla volta questi calano. Ok? Mentre in circolazione all'inizio ci sono stati tanti, e poi adesso sta rallentando. Ok? Perché questo? Perché il dollaro ha un valore finito, però ha una supply, un valore, sì, un dollaro, un dollaro, ma la supply è potenzialmente infinita. Mentre il bitcoin, avendo al massimo 21 milioni di dollari in circolazione, è una supply finita e di conseguenza ha un valore che è potenzialmente infinito. E l'ho capito meglio da questa slide, anche se il grafico magari all'inizio è un po' ostico da masticare. Questo grafico praticamente dice che il mercato è regolato da domanda-offerta. Ok? La D è la domanda e la supply è la, diciamo, l'offerta. Ok? Questo significa che il prezzo è conseguenza della domanda e dell'offerta. Allora, immaginate che io mi trovo in D e ho una certa quantità che è Q1. Ok? Di qualsiasi valore, vale per tutto questo, è una legge economica. se questa quantità che è OQ1, il numero di persone che la vogliono aumenta e passa da D a D1, vedete, automaticamente il prezzo aumenta. Questo succede in borsa, al mercato frutticolo, ovunque. Ok? È chiaro che se la domanda aumenta a parità di beni disponibili, il prezzo tende a salire. Ma succede lo stesso anche se io diminuisco la supply. Perché succede che quando c'è una tempesta di grandine, che ne so, e si riducono il numero di ciliegie, come è successo un paio di anni fa, il prezzo delle ciliegie invece costa 3 euro, costa 9 euro. No? Perché la supply è minore e quindi a parità di gente che mangia le ciliegie, il prezzo aumenta. Ok? Allora, questo effetto, questo effetto, ovviamente, diventa esponenziale quando c'è sempre più domanda, no, sempre più gente che entra nelle crypto, per fare un esempio, e c'è sempre meno offerta di nuovi, di emissioni di nuovi bitcoin in questo caso. Quindi, ovviamente, adesso la domanda successiva è ma è, c'è un sistema economico dietro il bitcoin? Cioè, non è che se lo sono inventato e domani mattina sparisce tutto? Certo che c'è un sistema economico. Perché? Perché ci sono una serie di produttori che creano sempre nuovi server e una serie di miners che comprano sempre nuovi server per cercare, ovviamente, di guadagnare più bitcoin. Perché c'è un sacco di consumo di energia elettrica per il mining e quindi c'è una generazione di valore associata al valore intrinseco del bitcoin. Ci sono sviluppatori di software, gli exchange che guadagnano dall'acquisto e dalle vendite che permettono lo scambio, società che fanno media advertising, società che sviluppano blockchain technologies, bla bla bla, ne potrei aggiungere mille, ma magari dopo Paolo Tasca ci dà qualche idea in più. Comunque, c'è un sistema economico dietro il bitcoin che va al di là di quello che noi vediamo semplicemente associandogli un prezzo. Ma ancora più importante è è possibile stimarne il prezzo? C'è un fair value price del bitcoin? Perché mentre per le azioni c'è un fair value price, io posso stimarlo e quindi decidere se un'azione è cara o non è cara in base al dividend discount model o tutti i modelli che vogliamo, nel bitcoin non c'è questo, almeno apparentemente non c'è. E quindi come posso capire e predirne il valore e quali sono le dinamiche che muovono il prezzo? Allora, per rispondere a queste domande io ho preso un modello che in realtà non è nostro lo trovate in letteratura e su internet quindi vi invito a analizzarlo. I dati che troverete qui sono dati da me ricalcolati perché quando ho visto quel modello in tutta onestà non ci credevo che potesse che fosse corretto e quindi l'ho risimulato totalmente per essere convinto e il modello si chiama stock to flow ok? è un modello che usa la legge di potenza allora prima di capire cos'è lo stock to flow vi spiego velocemente la legge di potenza la legge di potenza è una relazione esponenziale tra tra due parametri che si trova in tantissimi esempi fisica matematica statistica e via dicendo e si applica quando c'è una relazione esponenziale appunto un esempio è la legge di pareto sapete che il 20% delle persone mondiali detiene l'80% della ricchezza ma seguendo la legge di potenza l'1% della popolazione detiene il 50% della ricchezza quindi io posso con questa legge stimare esattamente qual è la logica ovviamente se la segue quindi praticamente come si descrive la legge di potenza si descrive il piano cartesiano quindi xy dove entrambi gli assi hanno una scala logaritmica allora vi faccio un esempio questo è la percentuale di città negli Stati Uniti e questo è il numero di abitanti per città se per dire una città che ha 4 milioni di abitanti ovviamente ce ne sono molte poche rispetto al totale delle città negli Stati Uniti però se io lo metto su un piano cartesiano normale non riesco a leggere questo grafico quindi se metto in scala logaritmica sia l'asse y che l'asse x allora trovo una regola più diciamo più lineare e quindi riesco a interpretare meglio questi valori questo è un esempio ma ce ne sono mille da quello che dicevo prima di Pareto ai terremoti alle telefonate e la lunghezza delle telefonate la popolazione delle città e via dicendo ce ne sono un sacco l'importante è capire che la legge di potenza è una relazione tra due assi logaritmici cioè una relazione esponenziale tra i parametri questo perché è importante perché si può provare a vedere se si può applicare questo modello sulle commodities per esempio allora vi faccio un esempio di scarsità immaginate una moneta del Sacro Romano Impero non so quanti di voi facciano collezioni di monete antiche però una moneta del Sacro Romano Impero ovviamente è molto rara ce ne sono poche e difficilmente se ne trova una nuova quindi se uno ci tiene ovviamente i collezionisti non sono tutto il mondo sono alcune centinaia di migliaia magari di persone nel mondo o qualche migliore ovviamente se uno vuole comprare una moneta del Sacro Romano Impero dovrà pagarla cento volte mille volte più del suo valore originale cioè di quando veniva usato all'epoca che magari veniva usata per comprare un velo di seta perché ovviamente è molto scarso allora la domanda è ma le commodities seguono lo stock to flow allora lo stock to flow significa stock la quantità che è in circolazione flow la quantità che viene immessa nel mercato di nuovo di nuova quantità allora c'è una relazione tra la quantità che viene estratta ogni anno il flow per dire di oro e rispetto al totale che è già in circolazione lo stock della stessa commodities allora questa è una tabella che ho preso da un sito internet comunque i dati al parte che i prezzi sono un po' vecchi ma i dati sono corretti allora come si legge l'oro ha 190 milioni di tonnellate e ogni anno ne vengono estratte 3.500 tonnellate significa che ci vogliono il rapporto 3.500 e 190 è 54 circa quindi ci vogliono 54 anni per 3.500 tonnellate all'anno per ricostruire lo stock in circolazione o vista in un'altra maniera viene estratto l'1,8% all'anno di quello che c'è in circolazione ok i diamanti in realtà ne vengono estratti il 5% all'anno e quindi ci vogliono 20 anni per duplicare lo stock attualmente in circolazione l'argento ne viene estratto il 35% all'anno quindi bastano 3 anni per duplicare lo stock in circolazione allora la domanda è esiste una relazione tra questi parametri cioè tra quanto è difficile crearlo nuovamente cioè quanti anni ci vogliono a crearlo e quanto ce n'è in circolazione allora qui scusate questo è un grafico con scala logaritmica nel market value cioè mercato complessivamente e nel relazione tra stock e flow ovvero qui ci vogliono 100 anni per duplicarlo qui ce ne vogliono 10 qui ne basta 1 allora se vedete praticamente tutte e 4 queste commodities stanno sulla stessa linea questo significa che c'è nelle commodities una relazione tra quanto ne viene emesso ogni anno e quanto è già in circolazione allora se guardiamo il bitcoin perché è interessante cercare di capire se anche il bitcoin ovviamente è soggetto a questa legge questo è l'annual mining in termini percentuali cioè oggi siamo qui vuol dire che ogni anno viene emesso circa il 3-4% dei bitcoin che sono già in circolazione pochi mesi fa era il 5% ok man mano che passerà il tempo i bitcoin che verranno estratti ogni anno saranno sempre meno e è il concetto di deflazionistico che parlavamo prima quindi se guardiamo se mettiamo il grafico dei prezzi del bitcoin mese per mese in questo piano vediamo che il bitcoin seppur con un'inclinazione minore questa è una retta di regressione con la legge di potenza ha seguito fino adesso questa retta ok però con degli intervalli che si sono spezzati quindi non è una serie storica dritta ovviamente perché qui non c'è il tempo ma c'è la relazione tra quanti sono emessi e quanti ne vengono ne vengono prodotti e ci sono queste due interruzioni queste due interruzioni sono i due halving che sono avvenuti allora vediamo vediamo solo il bitcoin per essere più focalizzati scusa scusa Daniele sono Angelo Ceccato nel grafico che facevi vedere prima c'era il palladio che però non seguiva la stessa regola allora la domanda che mi ponevo era quella ma i consumi e lo stesso discorso varrebbe anche per il bitcoin che va incidere come variabile rispetto allo stock e al flusso in entrata allora è chiaro che questo è un punto spot e è chiaro che c'è una nuvola attorno no? sì non è che il prezzo rimane quello magari magari una volta mi divertirò a fare le nuvole del dei vari dei vari cose però il concetto è che stanno tutti sulla stessa linea ovviamente il silver è un po' sotto per carità però stanno tutti sulla stessa linea vuol dire che bene o male il concetto di scarsità incide sul prezzo poi ovviamente ci sono altri parametri dopo magari ne vediamo qualcuno però vuol dire che in un mercato il fatto che ci sia la scarsità nella produzione di nuovo di un nuovo elemento incide sul prezzo e qui sul bitcoin è abbastanza evidente questo fenomeno perché perché bene o male ovviamente con la volatilità tipica del bitcoin però si è mosso attorno a questa retta e quando è avvenuto l'alving da essere leggermente sopra si è trovato a essere drasticamente sotto come vediamo qua quindi quando è avvenuto l'alving praticamente ci trovavamo che bastava due anni e mezzo neanche tre per emettere di nuovo il bitcoin dopo il primo alving erano stati emessi dieci e ne venivano emessi altri cinque ogni anno quindi quando c'è stato l'alving c'è stato questo stacco ci sono voluti più anni per per raddoppiare lo stock di bitcoin e cos'è successo che quando è avvenuto il primo alving il prezzo prima qui era sopra la linea si è trovato sotto la linea però rapidamente rapidamente vuol dire dopo lo vediamo in un po' di mesi è risalito fino alla retta poi l'ha superato poi è ritornato in giù e più o meno è stato attorno alla retta poi quando è venuto lo stesso alving era sopra questa retta e si è trovato decisamente sotto di nuovo e cosa ha fatto in pochi mesi ha recuperato la retta e poi l'ha superata e è ritornata giù e si è mossa attenzione che queste sembrano scale piccole ma qui stiamo passando da 100 milioni scusate 100 billion a 200 300 billion quindi è chiaro che la scala è piccola però le valutazioni sono ampie adesso cosa è successo è successo il terzo bitcoin il terzo halving e il valore adesso si trova qui e quindi è ragionevole non è una garanzia ma è ragionevole ipotizzare che adesso il prezzo tornerà verso questa retta allora trasformare questo in un piano cartesiano e quindi ipotizzare questo punto per dire quale sarà il valore futuro del bitcoin e quindi quale sarà il valore quando sarà qua e bla 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 si trasforma in questo grafico la linea nera è il bitcoin e la linea verde è il diciamo il il prezzo presunto da questa logica di modello stock to flow dalla regressione che abbiamo visto prima poi chi interesserà possiamo vedere anche la matematica ma lasciamo lasciamo perdere la matematica sotto allora cosa è successo quando è avvenuto il primo halving il prezzo del bitcoin era leggermente sopra e si è trovato subito molto staccato ma in pochi mesi l'ha recuperato poi è andato sopra è andato sotto ovviamente la volatilità è la caratteristica principe del bitcoin quando è avvenuto il secondo halving era di nuovo leggermente sopra no si è trovato nettamente sotto e nell'arco di sei mesi un anno l'ha recuperato no un po' più di un anno l'ha recuperato e l'ha superato è arrivato sappiamo ai 18.000 poi è ritornato giù come è ritornato giù nelle altre due volte e ha oscillato attorno a questo valore adesso praticamente si trova adesso non è giornatissimo questo grafico perché è una presentazione che ha fatto al quant di Venezia adesso si ritrova di nuovo qua sotto perché è attorno a 10.000 anzi è leggermente sotto a 10.000 e è ragionevole ipotizzare non è garantito mi raccomando è ragionevole ipotizzare che possa andare verso di nuovo il prezzo di equilibrio legato a questo modello allora una considerazione su questo anzi due dopo magari dopo magari ci fermiamo un attimo bitcoin ha subito fino adesso tre bolle non so se voi lo sapete ma chi ha letto il mio libro lo sa praticamente quando è nato è cresciuto del 39.000% e poi ha perso il 91 poi è salito del 27.000% e ha perso l'82 e poi quella che è un po' più conosciuta ha guadagnato miseramente per il modo di dire il 7.900% e poi è crollato di nuovo dell'81% quindi la domanda lei cita è ma il bitcoin si muove a bolle o è una caratteristica intrinseca del bitcoin che avendo il 90% di volatilità ovviamente si muove con delle volatilità e delle variazioni a cui non siamo abituati è una bella domanda io sono più per la seconda però per chi è abituato alla finanza ovviamente il bitcoin si muove a bolle ma la domanda è partirà una terza bolla allora questo è un belissimo grafico che nel sito blockchain center dot net è dinamico cioè potete anche vedere dove praticamente nei valori azzurri dice che è i minimi del bitcoin e l'arcobaleno arriva ai valori rossi dove praticamente si considera sopravvalutato nei valori blu è sottovalutato nei valori rossi e sopravvalutato e mostra i tre halving cioè quando è successo il primo halving il bitcoin era sulla linea blu e è andato sopra la linea rossa poi quando è successo il secondo halving era di nuovo sulla linea blu chiaramente con prezzi completamente diversi e è ritornato sopra sulla linea rossa oggi ci troviamo di nuovo quel bitcoin attorno alla linea blu tra blu e azzurrina non lo so e è scattato il nuovo halving cosa succederà nei prossimi mesi ovviamente non voglio illudere nessuno però magari dopo qualche considerazione intelligente cerchiamo di farlo assieme Gabriele io mi scoperei un attimo esatto perché abbiamo una domanda che secondo me può essere interessante per tutti mentre le attendo io anche sulla chat allora la prima domanda è questa dal tuo punto di vista se il controvalore in dollari del bitcoin metti la telecamera scusa ah no me la sono tolta perché ho fatto i capelli oggi allora secondo me ne hanno tolti parecchi ho pensato di toglierla allora la domanda è ma se il controvalore in dollari del bitcoin vista la sempre inferiore remunerazione del miner non coprisse le spese e non rendesse più remunerativo al netto dei costi lo stesso mining che cosa potrebbe accadere? allora praticamente accadrebbe che i miner meno cioè che spendono più soldi o perché hanno servizi obsoleti o perché il costo dell'energia è più alta spengono le macchine spegnendo le macchine il lash rate ma poi diventiamo andiamo su termini su problemi un po' più complessi ma comunque il la potenza di calcolo per minare scenderebbe come è scesa poi tra l'altro in questi ultimi giorni e quindi ritorna a essere un po' più facile e quindi i miner che rimangono ritornano tra virgolette in guadagno in equilibrio quindi chiaramente fare il miner non è un mestiere banale e non è un mestiere che dove si moltiplicano i soldi gratis no? bisogna saperlo fare bisogna rimanere le giornate bisogna trovare le locazioni con la migliore energia possibile e via dicendo quindi è un mestiere è un mestiere molto remunerativo delle stime dicevano che prima dell'Alving il costo di mining era 3.000 dollari e quindi capisci che paghi 3.000 dollari e ne ricevi 6.000 8.000 10.000 è un bel guadagnare come concetto però è ovvio che dopo devi investire per rimanere con le macchine aggiornate e bla 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 quindi adesso che l'hanno dimensato Daniele scusa certo che oggi se io vengo remunerato con di fatto 6 bitcoin e un quarto a un prezzo di 9.700 dollari oggi comunque ogni validazione di blocco viene remunerata con 60.000 dollari questo è il dato di fatto certo che in un blocco ci sono moltissime transazioni dentro non è una singola transazione e tra l'altro c'è anche un costo di transazione che paghi non è cioè chi fa la transazione wallet su wallet comunque ha un minimo di costo di transazione ok che è anche quello volatile dipende da tanti parametri però è chiaro che la remunerazione principale è il mining però dopo se si avanza tempo e se qualcuno gli interessa magari parliamo anche un po' di questo fenomeno del mining come funziona e via dicendo certo e adesso resterei focalizzato su sui concetti lato investimento visto che siamo una community finanziaria e quando io ho fatto proprio lato investimento ti faccio subito un'altra domanda che è appena arrivata su cui mi associo anch'io anche perché io lo sto già facendo e la domanda è nell'occasione di questa serata facciamo anche un quadro del come i bitcoin possono essere acquistati e se la formula del piano di accumulo possa essere una strategia da attivare negli mesi e negli anni a venire allora mi nel senso che non è lo scopo di oggi spiegare fare educational su come aprire un wallet o un exchange o una cosa del genere anche perché siamo in ambito finanziario e poi ci tengo a dirlo di oggi agisco non tanto come sì agisco come CEO di Diamond Partners ma agisco anche come CEO di Diamond Capital che ha emesso i FITOKEN i FITOKEN come scopo avevano proprio quello di avvicinare l'industria finanziaria all'industria delle criptovalute e quindi comunque quello che cercheremo di di vedere oggi è qualche idea di come eventualmente poter investire per sé e per i clienti in maniera tradizionale sul settore ok per quanto riguarda il PAC io personalmente ce l'ho per i miei figli e sì la risposta è sì perché il PAC è fantastico sulla volatilità lavora sulla volatilità e non c'è alcun strumento finanziario che abbia la volatilità come il Bitcoin esiste il VIX ma il VIX ha altre inefficienze e poi diciamo che è un ritorno verso la media invece il Bitcoin ha un potenziale di incremento che fa sì che diventi molto interessante fare un PAC sul Bitcoin tra l'altro stiamo lavorando tra un po' di mesi magari ne riusciremo a fare anche uno finanziario senza il mal di testa di dover aprire un exchange di comprendere cos'è una chiave pubblica una chiave privata e via dicendo però non spoileriamo cose che non abbiamo dai rimaniamo focalizzati qualche notizia sul FIToken sì questa è un'altra domanda comunque Maurizio è PHI token proprio con la I anche FIToken perché FI è una storia una storia infinita allora sì esatto FI è la ventunesima lettera dell'alfabeto greco che riguarda anche immagino che Gabriele sta preparando legato al golden ratio con cui io e Gabriele Bertelli abbiamo fatto dei lavori insieme questo è il libro di Luca Pacioli La Divina Proporzione grande però si sviluppa tutto il concetto della però siccome siamo già alle meno 10 alle 6 rimarrei focalizzato su considerazioni i FIToken magari a chi interessa o facciamo un altro virtual meetup o ci sentiamo in separata sede perché è una storia di un'altra domanda Daniele è per l'acquisto dei bitcoin ci chiedono è utilizzabile l'ETN quotato a Stoccolma sul bitcoin tracker o tracker è efficiente costa poco non c'è rischio di furti come avviene in qualche exchange ed è immediatamente liquidabile ci sono difetti che magari non vengono colti oppure tu sei un turista e dici bitcoin è bitcoin e non si fanno surroganti no 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 anzi anzi consiglio soprattutto se si è dei professionisti che si lavora per per gestire i soldi dei clienti per fare consulenza ai clienti è assolutamente consigliabile evitare di toccare exchange criptovalute in maniera diretta è assolutamente meglio meno complicato è molto più pratico e veloce usare gli strumenti finanziari che noi che noi abbiamo anche perché poi basta che il cliente si dimentichi perda o pubblichi la private key e che gli viene rubata gli rubano i soldi e dopo il colpevole è che gli ha proposto no la criptovalute quindi consiglio di evitare di proporre ai clienti per sé uno può fare quello che vuole io personalmente ce li ho però per i clienti mai almeno finché non diventerà uno standard sicuro comprensibile e facile da usare oggi non è né sicuro né comprensibile né facile da usare e quindi è meglio è meglio affidarsi a strumenti finanziari l'unico difetto dell'etn è il fatto che ha il 90% di volatilità come il bitcoin e quindi prendo il bene ma prendo anche il male e noi sappiamo bene che se un cliente è preoccupato con la volatilità del 15% del mercato azionario se non è ben gestita questa cosa diventa cinque volte più preoccupato per un asset che ha il 90% di volatilità poi c'è un'altra domanda vediamo se riesco a rispondervi io con questo screen qua scusa Daniel te lo prendo un attimo la domanda è come si arriva al valore di 21 milioni di bitcoin alla fine del tempo per quanto riguarda non per parafrasare il prossimo appuntamento ma alla fine del tempo del bitcoin vediamo se riesco a farvelo vedere avete questo foglio excel che io mi sono dilettato a costruire per caso lo vedete Daniele si vede il foglio excel si 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 vede ecco perfetto allora qui nella colonna con le scritte verdi voi vedete lasciate stare adesso la scalettatura degli anni che ci interessa relativamente ma vedete nei singoli numeretti la remunerazione di ogni blocco se andate in fondo vedete che in realtà tra il 2137 e il 2140 noi non saremo spettatori della sporca faccenda la remunerazione di un blocco sarà dello 0,2468901 e vedete che alla fine di questo processo sarà coniato esattamente il 21 milionesimo bitcoin fate conto che nei 4 anni precedenti ce n'era in circolazione 20 milioni 999.999 virgola 995 11.060 esatto qui vedete proprio tutta la la come il bitcoin di fatto viene generato e vedete anche come i blocchi diminuiscono in maniera radicale la remunerazione che ottengono per la valutazione delle operazioni te lo tolgo ovviamente no scusa perché la logica è stata proprio quella cioè chi ha inventato il bitcoin che sia Satoshi Nakamoto persona o gruppo di persone non è non è rilevante in realtà l'ha studiato come sistema scusa ti tolgo lo schermo certo come sistema deflazionistico che incrementasse il valore nel tempo e ovviamente con la volatilità purtroppo che lo contraddistingue però d'altronde per fare quei rendimenti ci vuole quella volatilità e l'ha ideato con 0 cioè con 8 0 dietro la virgola proprio perché e l'1 è il Satoshi è il famoso Satoshi no un un 8 millesimo di bitcoin è Satoshi per proprio perché nell'immaginario ma nella progettazione dei bitcoin si era pensato di arrivare al fatto che quell'1 dopo 8 0 possa avere una remunerazione tale da pagare uno che mina il bitcoin che oggi costa 3000 euro fate le debite proporzioni e riuscite a immaginare che valore può raggiungere il bitcoin allora io tornerei a palla su un po' di considerazioni pratiche qui dovremmo anche coinvolgere almeno avevamo pensato di coinvolgere Paolo Tazca esatto finisco e coinvolgiamo Paolo ok allora volevo fare alcune considerazioni allora prima di tutto dove ci sono grandi rendimenti ci sono anche grandi rischi non dimentichiamolo mai poi Satoshi Nakamoto ha realizzato un modello deflazionario le probabilità che il bitcoin segua la legge di potenza sono 95% qui c'è riferimento a un paper e dopo c'è in bibliografia anche altri modelli quantitativi portano risultati simili io al quanto ho presentato quattro modelli uno era questo gli altri tre sono miei proprietari a chi gli interessa li posso spiegare comunque sono tutti modelli che portano a risultati interessanti allora bisogna tenere in considerazione che il bitcoin potrà arrivare a 100.000 o anche un milione o più in futuro quindi oggi voi siete consapevoli che il bitcoin potrà arrivare a questi valori non significa che ci arriverà però potrà arrivare a questi valori e allora siccome Caneman dice che i rimorsi costano molto di più dei guadagni bisogna trovare il giusto equilibrio per non avere il rimorso se arriverà a 100.000 o a un milione ma non far danni se in realtà non ci arriverà allora questa opportunità secondo me e dopo lo vediamo merita da un 2 al 5% nella strategica asset allocation cioè nel portafoglio di investimento poi un'altra considerazione che è il futuro del bitcoin sarà disegnato da molteplici bolle e quindi dobbiamo prepararci a escursioni enormi cioè arrivare da 10.000 a 100.000 capite bene che sarà elevato ma andrà oltre i 100.000 perché dopo quando tornerà indietro dovrà perdere l'80% ma dovrà stare a valori molto più alti del 10.000 che c'è adesso e quindi sarà disegnato da molteplici bolle e proprio perché ci saranno molteplici bolle comprare un etf e tenere e fare buying hold per tutta la vita non è una grande idea perché sappiamo benissimo che se ci troviamo a mettere 10.000 euro ci troviamo a 100.000 e poi il cliente torna a 50.000 quel cliente sarà incazzato con noi perché ha 50.000 e non 100 anche se ne ha messi 10 lo sappiamo benissimo no? E quindi il consiglio nostro un consiglio non di investimento ma di suggerimento diciamo la considerazione è che un fondo quantitativo è probabilmente la miglior soluzione oggi a disposizione allora giusto perché voi lo sappiate poi non posso parlarne perché non c'è la garanzia che siamo tutti professionali e purtroppo la legge su purtroppo la legge sulle normative dei fondi alternativi è restrittiva Diamant Partner è gestore di un fondo che si chiama Digital Asset Fund questo è il sito internet e Diamant Partner ha anche realizzato una piattaforma che si chiama OpenIF digitale per la sottoscrizione in autonomia da parte degli investitori di questo fondo in futuro di altri fondi alternativi si chiama OpenIF e proprio perché altri fondi alternativi comunque se c'è qualcuno che vorrà maggiori informazioni poi magari mi contatta in privato e lo verificheremo allora vorrevo fare un'altra considerazione prima poi di passare magari a Paolo cosa significa l'impatto di introdurre crypto asset nella asset allocation strategica allora immaginate tre portafogli prudente bilanciato aggressivo prudente è l'80% bond bilanciato 50% aggressivo zero allora il l'aspect del ritorno di un portafoglio prudente ha l'1,5 questo è fatto con Exante e un'aspect volatilità del 4,1 se io inserisco il 2% di crypto mi trovo ad avere la stessa volatilità però con un expected return molto più alto lo stesso volatilità perché praticamente il le criptovalute hanno correlazione zero con tutte le asset classi per un portafoglio bilanciato se io inserisco il 5% la volatilità praticamente rimane uguale ma l'aspect del return aumenta drasticamente praticamente triplica e se avete dei clienti che sono molto aggressivi magari un giovane si può arrivare fino al massimo a un 10% anche in questo caso la volatilità rimane simile ma il rendimento praticamente esplode a chi interessa abbiamo un foglio Excel per fare queste simulazioni però la considerazione su questo è mettere un 2% di un cliente su un fondo che investe in crypto asset o una simmetria enorme tra possibilità di perdita spariscono le crypto da faccia da terra perdo 2% e le potenzialità di guadagno l'impatto che ha questo 2% sul portafoglio ultima cosa per i gestori patrimoniali giusto per ritornare al concetto di prima io posso replicare il treasury a 10 anni con il 2% di bitcoin e il 98% di cash oppure posso replicare il rendimento dello standard impurro col 5% di bitcoin e 95% di cash oppure posso avere dei rendimenti attesi enormi col 10% di bitcoin e 90% di cash quindi la frontiera efficiente può migliorare drasticamente con piccoli inserimenti di bitcoin nell'asset allocation il portafoglio esatto daniele c'è una domanda scusa ultimissima cosa forse lo sapete forse no io ho scritto un libro che è investire in cryptocurrencies professionalmente e con un po' di presunzione perdonatemi ma ritengo che la lettura di questo libro potrebbe aprirvi a degli scenari e delle opportunità per il vostro futuro e per il futuro dei vostri clienti inaspettati